Buongiorno a tutti e benvenuti, io sono Roberto Corona, sono un antroposofo e un astrologo e in questo video parleremo della prossima luna nuova in gemelli del 6 giugno. Una luna che da un lato cerca di alleggerirci attraverso la vita sociale, attraverso il divertimento, dall'altro lato tuttavia andrà ad attivare il trigono tra Giove e Plutone amplificando l'impulso alla lotta sociale e anche le proteste. Ecco siamo giunti con questa luna nell'ultimo terzo della stagione primaverile, ultimo terzo rappresentato dal segno zodiacale dei gemelli che ha la caratteristica di essere un segno d'aria che in astrologia è legato all'elemento della luce. Cosa significa? La luce torna protagonista e infatti la luce andrà via via aumentando accompagnandoci verso il solstizio d'estate quindi io vi invito proprio a far caso a come la luce solare ci chiami sempre di più verso l'alto. Questa è l'immagine della carta dell'evento del 6 giugno, apprezziamo come sempre gli ultimi cambiamenti del cielo prima di analizzarla e parliamo immediatamente del cambiamento più significativo dal momento che il 26 maggio Giove è entrato nei gemelli. Eccolo qua, Giove è ai primi gradi dei gemelli e come sappiamo l'ingresso di Giove in un nuovo segno rappresenta uno degli eventi più significativi di ogni anno. Ecco, in proposito vi lascio il video di approfondimento in descrizione dove ne ho parlato in dettaglio. Il 3 giugno anche Mercurio, signore di gemelli, è entrato nel suo segno ovvero il suo domicilio diurno. Eccolo qua, Giove in domicilio nei gemelli. Quindi il giorno dopo invece il 4 giugno abbiamo avuto un evento molto bello, molto significativo che riguarda il pianeta Venere. Venere il 4 giugno era in congiunzione al sole sia per longitudine che per latitudine, il che significa che Venere si trovava in Kazimi, una parola araba che significa nel cuore del sole. Quindi Venere era nel cuore del sole, una condizione molto rara e favorevole che tuttavia la carta non figura, la carta figura una Venere che ormai è uscita da questa condizione di Kazimi, però vi faccio notare che Venere è in congiunzione veramente strettissima con il sole e con la luna. Ovviamente congiunti perché è una luna nuova. Sappiamo che la luna nuova per definizione rappresenta l'inizio del processo di manifestazione delle forze fisiche sulla terra che vanno via via aumentando con la luna crescente. In particolar modo abbiamo l'eterico che va via via crescendosi e che permette appunto la manifestazione e questa crescita chiaramente può essere ben rappresentata dal processo di un semino che noi andiamo appunto a seminare per dare inizio alle cose e le cose culminano nella loro manifestazione. Abbiamo queste due settimane che ci portano verso la prossima luna piena che sarà una luna piena in capricorno che ha la caratteristica di cadere proprio il 22 giugno, cioè proprio il solstizio d'estate. Vedete come questa luna nuova in gemelli ci traghetti in senso letterale verso il solstizio. Descriviamo ora in modo più dettagliato la carta. Il sole e la luna si trovano a 16 gradi e 17 primi dei gemelli e si trovano nell'immagine stellata del toro. Spicca immediatamente uno stellium in gemelli, cioè proprio un cumulo di pianeti. Ecco vi faccio notare che qui abbiamo a che fare con la metà dei pianeti 5 su 10 tutti nei gemelli. Ecco abbiamo Venere, Luna, Sole, Mercurio e Giove. Soprattutto Giove che abbiamo detto appunto essere la novità è entrato nei gemelli, un Giove che è in trigono tra l'altro a Plutone e in se stile anche a Nettuno. Ecco abbiamo parlato già di questi aspetti che verranno qui attivati. Inoltre abbiamo nello stellium il signore dei gemelli ovvero Mercurio e Mercurio come vedete è congiunto a Giove mentre Venere è congiunta a Sole e Luna appunto uscita da questa condizione di Kazimi. La carta è abbastanza semplice, tutto sommato si snoda attraverso due aspetti fondamentali stellium a parte. Quindi abbiamo la quadratura di Sole e Luna con Saturno che come sappiamo è nei pesci e abbiamo il trigono che abbiamo già citato tra Giove, Mercurio e Plutone. Ecco vediamo ora i significati della carta prendendo in considerazione chiaramente anche l'effetto dello stellium. Dal punto di vista fisico in generale uno stellium è una forza che è eccessiva, cioè abbiamo spesso indicato come uno stellium rappresenta un eccesso di forze, forze tutte dello stesso tipo, in questo caso forze gemelli che sono materialmente parlando piuttosto difficili da gestire nella loro manifestazione pure semplice e che pertanto tendono a fuggire nel segno zodiacale opposto per un effetto chiamato enantiodromia che è un termine preso in prestito dalla psicologia jungiana che deriva dal greco significa letteralmente fuga nel proprio opposto. In questo caso il segno zodiacale opposto è il segno del sagittario, quindi vedremo come queste energie gemelli poi tenderanno sfogarsi nel sagittario. Ecco tuttavia inizialmente appunto inizialmente la carta ha delle energie gemelli quindi ci parla di distrazioni, ci parla di divertimenti, ci parla anche di leggerezza che sono simbologie dei gemelli. Mi raccomando la leggerezza non è necessariamente superficialità. Ecco essendo una luna nuova quindi veniamo stimolati al nuovo, al cambiamento, alla novità da chi? Da Mercurio, dio della comunicazione e da Venere, dea del piacere e della bellezza che vogliono in qualche modo portarci fuori dalla dimensione di pesantezza rappresentate invece da chi? Chiaramente da Saturno. Abbiamo questa quadratura con Saturno nei pesci che con i significati di disillusione abbiamo visto può essere chiaramente un transito anche abbastanza pesantino. Ecco oltre a questo questa luna può giovare del trigono tra Mercurio che è il dio dell'intelletto ricordiamo e dell'ingegno con Plutone e questo è molto favorevole per la soluzione di problemi pratici. Perché questo? Perché innanzitutto la funzione dell'intelletto è proprio questa, risolvere i problemi, ma soprattutto perché Plutone è in acquario, segno zodiacale dell'innovazione. Quindi è una luna anche molto favorevole a mettere in pratica nuove idee soprattutto se innovative e considerando la presenza di Giove in congiunzione a Mercurio queste idee possono anche portare frutto anche dal punto di vista economico. Ecco tra parentesi i gemelli rappresentano il mercato quindi in generale gli scambi commerciali sono favoriti da questa da questa luna. Ecco questo in un primo momento dove le energie dei gemelli possono iniziare a manifestarsi tuttavia è molto probabile che queste fuggano nell'opposto sagittario diventando molto più serie anche molto più profonde e di fatto attivando gli aspetti di Giove con Plutone e con Nettuno. Ne abbiamo parlato nel video di Giove in gemelli che vi lascio in descrizione quindi vi invito a guardare quel video ma in estrema sintesi Giove in gemelli si fa sicuramente serio in trigono Plutone e tende a sfruttare queste energie per fare rete e riorganizzare le proteste di cui abbiamo avuto un assaggio durante la congiunzione Giove e Urano. Vi faccio notare che c'è un'analogia tra la congiunzione di Giove e Urano e un trigono di Giove con un Plutone che è in acquario quindi abbiamo i significati di Urano e quelli dell'acquario che si richiamano a vicenda. Ecco dal punto di vista animico quindi maggiormente psicologico invece abbiamo visto come l'impulso di questo stellium nell'anima porti lo abbiamo detto verso il divertimento verso la leggerezza ma anche questioni legate maggiormente all'amicizia agli affetti. Ecco potremmo quindi sentirci spinti a ricollegarci a vecchi amici o alle persone a cui vogliamo bene questo soprattutto a causa della presenza di Venere e di Mercurio. Senza contare che la quadratura con Saturno può anche parlare della risoluzione di determinate questioni che magari abbiamo in sospeso. Ecco inoltre potremmo anche sentire molto amplificato il sentimento della noia durante queste due settimane questo perché la noia ha la funzione di farci andare incontro a nuovi stimoli appunto abbracciare il cambiamento e in questo senso la fuga nell'opposto sagittario potrebbe anche manifestarsi consolidarsi nell'organizzazione di un bel viaggio con gli amici per esempio. Ecco dal punto di vista spirituale senza ombra di dubbio guardiamo qui a Giove perché Giove è il pianeta della spiritualità e Giove fa parte chiaramente dello stellium. In proposito vi rimando al video di Giove in gemelli dove abbiamo analizzato la sovrapposizione con l'immagine stellata del toro eccola qui. In estrema sintesi Giove in gemelli nell'immagine del toro ci porta incontro il tema dell'ermetismo quindi qui abbiamo anche la presenza di Mercurio Ermes e a inizio quindi un anno molto favorevole per lo sviluppo delle cosiddette tre scienze ermetiche che sono l'astrologia l'alchimia e la magia e in questo senso la carta ne rappresenta una attivazione. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi aggiornamenti astrologici io sono Roberto Corona ci vediamo nel prossimo video